Signore e signori, la nuova X-H1. La vediamo qua in diretto confronto con la X-T2. Che cos'è innanzitutto questa X-H1? Fatemi mettere via la X-T2. Diciamo che è un upgrade della X-T2. E' eredita dalla GFX alcune caratteristiche importanti, ovvero questo mirino superiore, estremamente comodo e personalizzabile su sfondo nero e bianco, dove abbiamo le informazioni relative da macchina spenta alla carica della batteria. Da macchina accesa vediamo esposizione, tempo di scatto, modalità di scatto, ovvero se stiamo scattando in RAW o in JPEG, gli ISO, il bilanciamento del bianco e il tipo di simulazione della pellicola. Quindi a colpo d'occhio abbiamo tutto quello che ci serve. Molto simile a GFX anche l'alloggiamento delle memorie. La macchina è più grande, è leggermente più pesante, 100 grammi la macchina senza battery grip. Con battery grip non so onestamente a quanto arriviamo. L'impugnatura è stata resa più, diciamo, più solida. Ecco, questa è l'impressione totale che si ha della macchina. E' stato anche rinforzato l'anello di attacco delle ottiche, strizzando l'occhio a ciò che verrà in futuro, mi riferisco in particolare al nuovo 200 mm. Dalla GFX eredita anche il monitor che adesso è touch. Rimangono invece le caratteristiche della XT2, ovvero il monitor basculante su tre assi. Stesso identico processore, anche se questo processore è stabilizzato a cinque assi. Sono stati migliorati anche i bottoni, ora sono più bombati. Durante le poche prove che ho fatto ho potuto apprezzare in maniera molto particolare questa miglioria, che sembra banale ma non lo è affatto. Soprattutto in situazioni di fotografia dinamica, dove posso tornare a utilizzare in maniera più consistente, diciamo così, il fatto di fare il fuoco con il tasto posteriore, piuttosto che utilizzare il tasto di scatto. Le due ghiere superiori restano identiche. Migliorata anche l'ergonomia dei selettori per spostare sia la velocità di scatto che il tipo di misurazione della luce, viene introdotta una nuova raffica. Quindi invece di avere solo CLCH abbiamo una via intermedia di CM. CH, quindi la raffica veloce, resta sempre a un massimo di 11 fotogrammi in shutter meccanico, che diventano 14 con shutter elettronico. Il battery grip sostanzialmente è identico. Le batterie sono le stesse, sono le S, le NP126, se non ricordo male la sigla, sì, NPW126S. Ho provato a inserire una versione di batteria non S e sul display, cosa abbastanza curiosa, mi viene indicata con un colore differente, giallo, forse proprio a indicare il fatto che non si tratta della versione S della batteria. Cos'altro dire, cambiano anche le modalità video, adesso abbiamo un 4K 17 noni, quindi leggermente più panoramico, e soprattutto abbiamo l'F-Log in camera, quindi non è più necessario un registratore esterno per registrare in modalità F-Log, ma possiamo direttamente registrarlo sulla nostra scheda SD. abilitato anche il riconoscimento facciale in 4K, come sapete prima sulla X-T2 funzionava solo in Full HD. Quali altre novità? Viene introdotta la modalità Eterna, che per quello che ho potuto vedere in realtà è più pensato per il video, per avere un aspetto più flat, in maniera tale da lavorare meglio in post-produzione. E' migliorata sotto tanti aspetti anche l'autofocus, più reattivo, più veloce, un nuovo algoritmo di calcolo dell'autofocus, un autofocus a rilevazione di fase migliorato per quanto riguarda anche la sua estensione. Adesso anche per farvi un esempio, montando il 100-400 con il 2x anche a F11 abbiamo il fuoco a rilevazione di fase e non solo quello a contrasto. Cos'altro? La connettività, oltre al Wi-Fi e all'USB, viene introdotta anche la connettività Bluetooth, quindi probabilmente migliorerà anche il supporto nei confronti dell'app, cosa che onestamente non ho ancora testato, migliorato anche la parte audio interna della macchina. Insomma, a chi strizza agli occhi questa nuova X-H1? Ai, tendenzialmente ai professionisti, che già si erano trovati bene con la X-T2, ma che avevano bisogno di una maggiore robustezza, infatti la verniciatura è di un nuovo tipo, molto più resistente alle abrasioni, di un corpo macchina che risultasse maggiormente ergonomico, soprattutto quando utilizzata con le ottiche nuove. Il processore rimane lo stesso, quindi la qualità di immagine rimane quella a cui eravamo abituata, quindi le novità sono essenzialmente legate al mondo del video e al mondo dell'efficienza dell'autofocus. Come la trovo? Personalmente mi piace molto, questa impugnatura migliorata effettivamente si sente, mi piace moltissimo anche la possibilità di utilizzare il touchscreen, l'ho provato su GFX durante il mio viaggio in Norvegia, e quindi ritrovarlo su questa X-H1 mi fa molto piacere. Niente, nei prossimi video due prove nel mondo reale, una a bordo campo nel basket e una in oasi per testare un po' queste migliorie di autofocus. Per questo primo hands-on è tutto, X-H1 ci vediamo sul campo per delle prove un po' più dettagliate. Grazie! 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 Grazie!